L'obiettivo è quello anche quest'anno di richiamare l'attenzione di tutta la società e di tutte le istituzioni su un tema che è veramente molto importante e cioè quello della discriminazione che ancora esiste per quanto riguarda il genere. In particolare quest'anno appunto la CES ha dedicato questa giornata e noi abbiamo aderito sia il tema dell'economia proprio per sottolineare come le donne siano centrali e siano fortemente coinvolte per quanto riguarda il rilancio dell'economia europea con il loro lavoro, con il loro contributo, con la loro azione sociale e il secondo tema sul quale continuiamo a porre l'attenzione è proprio quello riferito ai temi della violenza una violenza che purtroppo anche nel nostro paese continua ad essere molto presente una violenza che si consuma molto spesso tra le mura domestiche ma una violenza che sotto altre forme che non sono soltanto quella fisica si manifesta anche nei luoghi di lavoro e ovviamente collegato a tutto questo la mancanza per quanto riguarda le donne di riuscire a conciliare i temi proprio del lavoro con i temi che riguardano la cura alla persona l'attenzione alla propria famiglia, ai propri bisogni familiari quindi una giornata che pone al centro il tema che riguarda la differenza di genere e per la quale noi abbiamo iniziativa in tutta Italia, in tutti i territori e in tutte le federazioni che rappresentano lavoratori e lavoratrici a cui abbiamo invitato a queste iniziative non soltanto le donne ma anche gli uomini che certamente possono portare con la loro partecipazione la testimonianza di una volontà di cambiamento sociale e tutto questo senza alcun sciopero in quanto riteniamo che lo sciopero sia uno strumento assolutamente improprio rispetto al richiamo che noi facciamo alla società e alle istituzioni nel loro complesso.